Immaginate una situazione di questo tipo, avete affittato una casa tramite una app online, quindi in maniera assolutamente impersonale, per passare qualche giorno in una bella casa vicino al mare per prendervi un po' di relax. State trascorrendo le vostre vacanze, il vostro meritato riposo, quando a un certo punto, durante la notte fonda, mentre state chiacchierando con il vostro compagno o con la vostra compagna, a un certo punto suonano alla porta, andate a vedere chi sia dall'altra parte dell'uscio e vi accorgete che sono due persone, quelli che sembrano essere un padre con una figlia, un signore distinto con una figlia, elegante, che vi chiede se possono trascorrere la notte in quella casa, dato che quella è casa loro, e nella loro casa principale, quella che si trova nella città, in questo momento non possono accedere, non possono esserci. Voi cosa fareste? Li fareste entrare? Non li fareste entrare? Ma soprattutto vi fidereste di due sconosciuti alla porta? Ecco, questo è, diciamo così, l'attacco, l'aggancio del film Il mondo dietro di te, del regista Sam Ismail, che è stato, diciamo, distribuito da Netflix l'8 dicembre 2023, quindi il giorno dell'Immacolata, e nel momento in cui vi parlo, diciamo, si ne stanno parlando un po' tutti, soprattutto fra i miei contatti online. C'è qualcuno che lo trova interessante, c'è qualcuno che è rimasto deluso, c'è qualcuno invece che ne sta facendo una critica. Come spesso capita, come, diciamo così, mi capita da qualche anno a questa parte, anch'io voglio fare un video che affronta questo film. Ovviamente i miei video non sono delle recensioni, perché io non ho, diciamo così, gli strumenti critici cinematografici da potermi permettere il lusso di fare delle recensioni che non siano semplicemente delle opinioni arbitrarie. Quello che voglio fare, però, è quello che faccio, perché immagino, è un sospetto, di farlo un po' meglio, dato che sono uno studioso di sociologia, un ricercatore in sociologia, un docente in sociologia della comunicazione digitale, l'unica cosa che posso fare è provare a vedere quali sono i temi sociologici che sono, che sono nascosti e che emergono dalla narrazione di questo film, che comunque ne ha diversi, anche se sono, diciamo così, inscritti all'interno del meccanismo narrativo della distopia e della fantapolitica. Comunque ci sono dei temi che, secondo me, sociologicamente parlando, sono molto interessanti. Allora, cominciamo a elaborare un po' di ragionamenti su questo film. Cominciamo a fare una scheda di questo film. Ovviamente la mia scheda sarà a uso e consumo della mia analisi sociologica, quindi farò una scheda di questo film, soprattutto identificando quegli elementi che dal mio punto di vista possono essere utilissimi per analizzare sociologicamente questo film. Ovviamente anch'io farò una piccola recensione arbitrale e personale di come ho trovato questo film, ma lo farò solo alla fine. Ovviamente sarà una recensione più che altro che si concentrerà sugli aspetti che mi hanno colpito in maniera particolare e che, secondo me, valgono la pena o non valgono la pena che, diciamo così, mettono in evidenza la questione se valga la pena oppure non valga la pena appunto rivedere questo film. Allora, per quanto riguarda la questione spoiler, allora, tecnicamente, anche se racconto delle sequenze da cui si è stato costituito questo film, lo faccio in maniera, diciamo così, astratta e disordinata, quindi tecnicamente non farò degli spoiler particolari tranne quando farò appunto la recensione, quindi negli ultimi minuti di questo video. Quindi, secondo me, questo video può essere visto anche da colori quali cercano di capire se vedere questo film oppure no. Però, dato che la mia è un'analisi più che altro sociologica, anche se è al netto dell'assenza, spero, di spoiler, perché poi non si sa mai mentre uno parla magari sfugge qualcosa. In realtà ha senso vedere il mio video dopo aver visto il film, così magari ci si può confrontare su alcuni temi sociologici, alcune riflessioni, e soprattutto quello che io ho visto, ovviamente per deformazione professionale, essendo io uno scienziato sociale, un sociologo, ci ho visto delle cose che magari altre persone non ci hanno visto. Quindi, diciamo così, che l'unico contributo che posso dare al dibattito, video, anche, diciamo così, agli articoli che ho letto in giro su internet, su questo film, è più che altro il fatto che cerco di elaborare una prospettiva diversa rispetto a quelli che ho visto, che è appunto la prospettiva sociologica. E lo faccio, diciamo così, prendendo a, diciamo così, a piene mani dalla mia esperienza, sia di studente di sociologia, sia di studioso di sociologia, che adesso ormai anche di docente di sociologia. Anche perché io sono docente di comunicazione e qui di roba di comunicazione ce n'è tantissime. Allora, cominciamo subito con la scheda. Dunque, il titolo originale di questo film è Leave the world behind, quindi il mondo dietro di te. Ha questo titolo particolare sostanzialmente per un motivo, perché l'idea è quella appunto di lasciarsi il mondo alle spalle e andarsi a fare una vacanza. Però è una doppia interpretazione, no? La prima interpretazione è quella, diciamo così, più laica. Cioè, lasciati il tuo mondo alle spalle e vatti a riposare, ma l'altra è più inquietante, che è appunto la base del film. Stai attento, perché ovviamente lasciati il mondo dietro di te, perché vuol dire che il mondo sta cambiando e sta cambiando anche velocemente. Leave the world behind. il regista è Sam Esmail, che sia lo sceneggiatore che il regista. Allora, chi è Sam Esmail? Quelle cose che bisogna sapere. Allora, è l'ideatore di Mr. Robot, la famosa serie su un mondo fatto di hacker, attacchi cibernetici contro una cattivissima multinazionale tecnologica. Quindi, per chi ha visto la serie, sa perfettamente a cosa faccio riferimento. E inoltre, anche il regista di Homecoming, altra serie, mi pare che fosse Netflix, in cui la protagonista è Julia Roberts, in cui si parla appunto della possibilità di inserire nella vita quotidiana, in tutti i giorni, delle persone che hanno fatto delle guerre, se non ricordo mai, la guerra in Iraq. Ecco, questo è un po' Seb Esmail, quindi sicuramente è qualcuno che è piuttosto abituato alla narrazione distopica basata su guerre elettroniche e attacchi cibernetici che sembrerebbero stare alla base della narrazione di Il mondo di Truitè. La sceneggiatura, vi dicevamo, che è di Sam Esmail, ma il soggetto è preso dall'omonimo romanzo di Ruman Alam, un romanzo che leggo, che io non conoscevo, devo dire la verità, ma che leggo aver avuto un sacco, aver sollevato un sacco di interesse nel 2023, essendo, tra l'altro, è un romanzo che è stato tradotto in un sacco di lingue, tra cui ovviamente anche in italiano con il titolo nel 2020, con il titolo Il mondo dietro di te dalla casa editrice della nave di Teseo, quindi qualora l'argomento vi interessasse e voleste approfondirlo, diciamo così, potreste tranquillamente pensare di acquistare il libro. Spoiler, il libro ha degli elementi molto differenti dal film, anzi, più correttamente, il film ha delle sequenze e una struttura che pur rispecchiando quella del libro comunque si permette delle licenze poetiche dovute alla pensazione cinematografica, quindi dello spoiler. Però, diciamo così, la storia principale basata su presunti attacchi di Gebennettici, una realtà che non si riesce a interpretare, è una tensione thriller fra i vari protagonisti, questo mi è perso di capire che dalle recensioni che ho visto in giro che comunque viene mantenuto. Allora, i personaggi, io di solito non mi soffermo sui personaggi perché, diciamo, mi interessa più il contesto, la narrazione, così dicendo, ma in questo caso i personaggi sono importanti più che altro perché prima di tutto perché identificano quelli che sociologicamente potremmo chiamare degli idealtipi, quindi delle tipologie di soggetti ideali rappresentanti di una particolare categoria sociale o particolare classe sociale o generazione, come avrò modo di vedere, di illustrare, chiedo scusa, e questo è il primo aspetto. E l'altro aspetto perché è un film molto basato sul rapporto che si viene a creare tra i personaggi, quindi fra la tensione psicologico, emotiva, relazionale che si viene a creare, quindi sapere con che personaggi dobbiamo a che fare è di notevole aiuto. Il primo personaggio, quello che sta per più tempo per intenderci davanti la cinepresa è il personaggio di Amanda Sanford interpretato da Julia Roberts che fondamentalmente si presenta come una pubblicitaria misantropa. Il fatto che sia pubblicitaria lo scopriremo man mano che si svilupperà la trama. Il fatto che sia misantropa invece lo capiamo subito perché è la prima cosa che dice prima ancora dei titoli di testa del film quindi è qualcosa che ci fa già capire con che abbiamo a che fare. Amanda Sanford è sposata con Clay Sanford che è interpretata da Ethan Hawke che è un docente di inglese e comunicazione quindi già il fatto che sia un docente di lingua inglese ma soprattutto di comunicazione diciamo così ha un po' fatto ha attivato i miei diciamo così i miei sensori da sociologo della comunicazione che sono i corrispettivi dei sensori di ragno di nuovo ragno perché ovviamente mi ero preparato al fatto che ci sarebbero state delle riflessioni sui media come effettivamente c'è stato. Amanda e Clay hanno due figli Archie che è interpretato da Charlie Evans che è il classico figlio adolescente alla presa con le pulsioni degli adolescenti su questo ovviamente non insisto perché tutti siamo stati adolescenti immagino quelli che stanno vedendo questo video sanno cosa sto facendo riferimento e quelli che sono adolescenti hanno capito effettivamente cosa sto facendo riferimento ma quella che sembra più curiosa e più interessante è la figlia più piccola Rose Sanford interpretata da Phara McKenzie che ha una caratteristica principale è un'appassionata di serie televisive in particolare di Friends ma anche di West Wing come lei ci tiene a precisare solo le puntate scritte da Aaron Sorkin il che già per chi conosce il genere diciamo così crea tutto uno scenario di aspettative di riflessioni tutt'altro che indifferente se voi non sapete di Aaron Sorkin non c'è problema perché se mi date un attimo fra qualche minuto cercherò di illustrare perché questa osservazione può essere interessante altri personaggi che sono importanti nello sviluppo della trama sono J.H. Scott proprio G.H. J.H. Scott quindi mi pare strano che in italiano non si è stato chiamato G.H. Scott forse perché suonava strano comunque G.H. Scott interpretato da Marshall Hall per intenderci il musicista portato in giro per gli Stati Uniti nel film Green Book oppure se preferite il pericoloso diciamo così mandante degli attacchi contro Alita l'angelo della battaglia nell'omonimo film comunque un personaggio straordinario sia in questo il mondo dietro di te che è l'attore in sé assolutamente molto 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 interessante nella parte di quella che scopriamo essere sua figlia c'è Niala Herrod che interpreta appunto Ruth Scott quindi Ruth la figlia di J.C. Scott che è una classica diciamo così che ha queste caratteristiche di essere critica con tratti di cinismo sicuramente ostile e che possiamo dire che rappresenti la versione edulcorata edulcorato comunque stereotipica di quella che sappiamo essere la generazione Z una cosa interessante è che il lavoro fa J.H. Scott quindi suo padre è un consulente finanziario e il fatto che sia un consulente finanziario non è circostanziale ma avrà un ruolo sicuramente molto molto importante che avrà un modo di illustrare più avanti c'è un altro personaggio a prendere in considerazione che è Danny e Danny chi è? è interpretato da Kevin Bacon ed è il classico imprenditore edile che rappresenta la classe operaia complottista e survivalista americana complottista che non si fida molto del governo ma è survivalista che si prepara a eventuali cambiamenti politici repentini e quindi sempre pronto all'attacco il fatto che sia Kevin Bacon mi ha fatto molto divertire perché questo vuol dire che il numero di Bacon sia di Julia Roberts che di Marshall Alice si ridurrà notevolmente ovviamente perché hanno fatto un film con Kevin Bacon se non avete capito cosa ho detto cioè cosa sia il numero di Kevin Bacon facciamo così faccio come gli youtuber navigati mettetemi nei commenti se avete curiosità di sapere cos'è il numero di Kevin Bacon cosa c'entra con l'attore soprattutto cosa cerca con una teoria sociologica che si chiama la teoria del piccolo mondo o small world theory perché è una cosa divertente interessante che potrebbe incuriosirvi e soprattutto farvi passare delle notte insonne alla ricerca del numero di Bacon fra due attori non dico altro se volete che approfondissi a questo argomento indicatemelo nei commenti di qualunque piattaforma vedrete questo video un'altra cosa da non dimenticare perché secondo me dà tutta una nuance tutta una sfumatura diversa a questo film è la produzione ci sono due case di produzione coinvolte una è la Red Home di Julia Roberts motivo per cui appunto la Roberts è in diciamo così in primo piano in questo film ma non solo lei anche gli altri personaggi hanno uno spazio necessario sviluppo del meccanismo narrativo ma soprattutto c'è la Higher Ground Production casa di produzione che io non conoscevo che ho scoperto essere una casa di produzione fondata da Barack e Michelle Obama quindi praticamente questa casa di produzione ha fornito il proprio il proprio ruolo la propria diciamo intelligenza nella sviluppo della trama il che diciamo così fa assumere a tutta la questione una una sfumatura particolare perché stiamo parlando di una diciamo così di un film che ha a che fare con i temi della fantapolitica dell'attacco terroristico della distopia con uno scenario che sembrerebbe essere piuttosto plausibile e il fatto che ci sia diciamo così dietro una casa di produzione in cui c'è un ruolo importante fatto da un ex presidente degli Stati Uniti e quindi che avrà dato delle consulenze da questo punto di vista allo sviluppo della narrazione da parte di Sam Esmail che ripeto sia il regista che lo sceneggiatore lascia tutto diciamo così fa assumere tutta un'aria piuttosto interessante piuttosto piuttosto curiosa piuttosto curiosa io l'ho scoperto per caso mentre guardavo i titoli di testa non perché sia un grande diciamo così appassionato dei titoli di testa ma i titoli di testa di questa pellicola sono molto interessanti a punto di vista grafico e a punto di vista musicale e soprattutto hanno degli elementi grafici che rimandano alla trama e che mi hanno stuzzicato fondamentalmente soprattutto la parte in cui si vedono delle curve finanziarie delle diciamo così delle nasi dei grafici tecnici che si usano nei mercati finanziari che io ho riconosciuto perché riconosco quel tipo di rappresentazione statistica e che avrà un senso nello sviluppo della trama ecco questa è la scheda del film è il diciamo così con tutti gli elementi messi a disposizione per la narrazione per la struttura allora vediamo adesso la questione sociologica allora il contesto prima di entrare nel contesto due parole sulla trama c'è una famiglia appunto i Sanford che decidono di passare un weekend in una in una zona marittima vicino alla città di New York quella che è la città di New York quindi si trovano vicino alla città di New York in una zona molto vicina alla spiaggia quindi lontani dalla città da un certo punto di vista ma la città comunque si vede in lontananza vanno al mare e già al mare succede qualcosa di curioso cioè una enorme petroliera si arena sembrerebbe senza equipaggio sulla spiaggia e già crea una situazione diciamo così di tensione dopodiché loro passano la passano appunto il giorno a casa nella piscina di questa splendida casa che si trova che si trova a pochi chilometri da New York e mentre diciamo così Amanda e Clay cominciano appunto a chiacchierare la sera bevendo dei drink a un certo punto pur essendo notte fonda suonano alla porta suonano alla porta ci sono appunto J.H. e sua figlia Ruth che dicono di essere proprietari di questa casa e chiedono di essere ospitati durante la notte perché non possono stare nella loro casa di New York per una per una non ben situazione diciamo così personale ovvero si crea tutta una situazione di tensione perché Amanda diciamo così da brava pubblicitaria misantropa più misantropa ovviamente in questo caso pubblicitaria non è sicura di fidarsi di queste persone non sa di essere convinta che queste persone siano chi dicono di essere li vorrebbe lasciare fuori però è dell'avviso che questa cosa si possa risolvere civilmente quindi alla fine li fanno entrare in casa quello che succederà da quel punto in poi è che entrambe le famiglie cominceranno a coesistere in questa casa ma soprattutto a confrontarsi con una situazione di costante angoscia e costante ansia perché non funzioneranno i cellulari la televisione manderà dei messaggi diciamo così ansiogeni appunto non avranno informazioni sentiranno gli strani suoni che vengono che spezzano diciamo così la tranquillità di questa di questa zona diciamo di questa zona che diciamo così sembra essere tranquilla più tranquilla rispetto alla frenetica vita della città che non dormiamo a livello di New York quindi tutta una serie di un escalation di ansia di tensione che andrà via via montando sempre di più allora qual è lo sfondo di questo di questa pellicola allora lo sfondo è quello della cosiddetta guerra ibrida cioè la possibilità che cosa è la guerra ibrida cioè la guerra ibrida è un approccio bellico che mescola sia le guerre convenzionali fatte di armi e bombardamenti sia le guerre non convenzionali come la guerra economica quindi voler portare la crisi a un paese diciamo così agendo sull'economia una guerra psicologica quindi creando una situazione di tensione di ansia nei confronti delle persone che vivono in questo paese poi una serie di attacchi hacker la presenza di propaganda e fake news quindi questo è lo sfondo in cui ci troviamo perché ovviamente vedremo che succederanno un sacco di cose quali sono gli elementi di questa guerra ibrida che servono per descrivere il contesto in cui ci troviamo si parla di un attacco hacker quindi i cellulari non funzionerebbero a causa di un attacco hacker se c'è una crescita di timore nei confronti delle centrali elettriche che di solito sono appunto le infrastrutture che subiscono gli attacchi hacker in una situazione bellica ci sono dei volantini anti-americani quindi queste situazioni di guerra psicologica per creare la tensione volantini anti-americani che vengono scoperti appunto da Clay appunto da Ethan Hawke Clay che andrà in giro con la macchina per cercare informazioni quando i media non riescono a veicolare queste informazioni si sentono bombardamenti sirene la città di New York si vede appunto colpita da una serie di attacchi che ovviamente fanno ricordare quelli degli 11 settembre giusto perché si alzano del fumo dal centro della città ma soprattutto c'è anche riferimento un riferimento classico da questo punto di vista perché si occupa di cyber sicurezza al warm I love you del 2000 per chi non se lo ricordasse era un un warm appunto un programmino che si diffondeva utilizzando la mail come cavallo di troia che aveva infettato i computer nel 2000 quindi proprio all'indomani del diciamo del millennium bug del 99 per chi di voi si ricorda quel periodo e che aveva prendendo diciamo così nascendo nelle Filippine aveva creato un sacco di danni un sacco di crisi sia dal punto di vista economico perché aveva bloccato i computer diciamo così di mezza internet soprattutto negli Stati Uniti allora questo è il contesto in cui lo sfondo in cui ci troviamo però ci sono anche degli elementi sociologici molto interessanti allora il primo elemento che voglio discutere con voi è una teoria sociologica molto importante che si chiama la realtà come costruzione sociale cosa sostiene questa teoria o meglio questa famiglia di teorie di stampo prevalentemente legate alla filosofia fenomenologica non voglio scendere in dettagli giusto per capire il riferimento che la stabilità e la consistenza del nostro mondo circostante è basata anche sull'interazione sociale che noi abbiamo con gli altri è quello che viene chiamato il mondo dato per scontato quindi fondamentalmente la realtà esiste grazie anche all'interazione che noi abbiamo con gli altri con quel mondo che abbiamo per scontato faccio un esempio per cercare di essere il più chiaro possibile poniamo il caso poniamo una situazione di questo tipo una persona due persone vivono insieme a un certo punto uno deve andare al lavoro e dice ciao cara io esco la persona risponde ciao tesoro ci vediamo però mi raccomando stai attento ai semafori allora nella nostra esperienza questa frase non ha alcun senso cosa vuol dire stare attenti ai semafori quindi si crea tutto un meccanismo per cui la persona che ha ricevuto questa indicazione si comincerà a chiedere ma che ha voluto dire a cosa sta facendo riferimento che problemi hanno i semafori che cosa che problema hanno i semafori da questo punto di vista perché dove stare attento ai semafori cosa sta succedendo ecco quindi una frase assolutamente banale buttata lì ha incrinato alcune nostre certezze sul mondo circostante quindi ha incrinato quello che noi chiamiamo il mondo dato per scontato questo vuol dire che fondamentalmente anche nelle diciamo così nel nostro rapporto con le realtà sociale noi abbiamo bisogno di utilizzare le interazioni con gli altri come strumento di stabilità per mantenere la stabilità sul mondo sul mondo che ci circonda quindi se qualcuno ci rispondesse in questo modo mi raccomando appunto stare attento ai semafori uno potrebbe dire ma che problema c'è con i semafori cosa è successo quindi inclinerebbe le aspettative che noi abbiamo tutte le mattine quando usciamo di casa per andare al lavoro ecco questo vuol dire il mondo dato per scontato e la realtà come costruzione sociale quindi la realtà esiste anche in virtù delle interazioni sociali che avvengono fra le persone cosa ha di caratteristico da questo punto di vista perché mi ha fatto in mente questa teoria perché proprio le interazioni che avvengono fra le persone in questo film portano a incrinare la realtà circostante la prima cosa che emerge è che è la mancata interpretazione condivisa della situazione cioè il fatto che le due famiglie i Sandford e l'altra famiglia fondamentalmente non hanno diciamo così non sono d'accordo su come interpretare la situazione è vero che J.H. e Ruth sono i proprietari della casa è vero che se ne è dovuto scampare dalla città di New York e quindi andare nella loro casa diciamo così sul mare perché dovevano diciamo così perché devono scappare da una situazione che ha portato a un grosso blackout nella città cioè è tutto vero quello che dicono dato che le informazioni mancano e si possono ricostruire ecco questo è il classico esempio di la realtà come costruzione sociale quindi quando due interpretazioni della realtà confliggono allora si comincia ad avere a nutrire dei dubbi nei confronti della realtà poi ci sono altre cose che mettono in crisi la stabilità della realtà sociale che sono per esempio la presenza di rumori assordanti di cui non si capisce la natura si vedono sia degli incidenti navali che degli incidenti aerei proprio sull'incidente navale Amanda lo nasconderà a J.H. proprio perché Amanda rivela di aver paura che dicendo questa cosa rivelando che c'era stata appunto una nave petrolifera si era petroliera chiedo scusa si era arenata sulla spiaggia avrebbe confermato una appunto qualcosa di terribile che stava succedendo e lei non voleva ammetterlo a se stessa e così via dicendo quindi questo è un po' l'aspetto della costruzione sociale poi c'è anche la questione dei droni che cominciano a bombardare tra virgolette con volantini anti-americani e questa è anche una cosa che fa inclinare la realtà data per scontata chi sono questi droni chi li ha mandati perché questi volantini e così via dicendo e poi c'è un aspetto da non prendere in considerazione quella scena quella stessa scena Clay incontra una signora sconosciuta che chiede aiuto sul bordo della strada però questa signora parla in lingua spagnola e Clay non parla lo spagnolo quindi non capisce di cosa abbia bisogno a un certo punto preso dalla tensione della situazione ma soprattutto dal fatto che la sua realtà sociale stava sempre più inclinando non se la sente di dare una mano a questa persona non la capisce non capisce cosa sta dicendo e quindi preso da questa doppia ansia la lascia urlante sul ciglio della strada mentre questa poverina chiedeva aiuto ecco questo per far capire appunto come questo meccanismo di realtà costruzione sociale che incrina quello che noi diamo il mondo dato per scontato è un meccanismo appunto con cui la narrazione cinematografica di questo film crea questa costante tensione emotiva piuttosto forte c'è un'altra teoria da prendere in considerazione che invece la realtà come costruzione mediale allora la costruzione mediale della realtà è la controparte della costruzione sociale della realtà i media sono sicuramente degli oggetti sociali non c'è bisogno da questo punto di vista che io insista più di tanto questa è una cosa che ci riguarda tutti è una cosa piuttosto piuttosto ovvia la cosa interessante secondo me è il fatto che ovviamente anche i media contribuiscono alla stabilità e alle caratteristiche della realtà sociale in cui viviamo quindi oltre alle teorie sulla realtà come costruzione sociale possiamo utilizzare anche le teorie sulla realtà come costruzione mediale cioè anche i media contribuiscono a definire la realtà in un certo modo e noi ovviamente ci proiettiamo nella realtà nei termini in cui i media ce la rappresentano quindi ovviamente i media sono anche uno strumento importante per dare stabilità al mondo circostante quindi i media contribuiscono a costruire un'immagine del mondo condivisa con gli altri in quanto mezzi di comunicazione di massa o mezzi di comunicazione sociali quindi mass media e social media quindi se però se la realtà comincia a inclinarsi ovviamente utilizziamo i media che consideriamo come rappresentazioni culturali condivise abbiamo bisogno dei media per cercare di avere informazioni per ricostruire questa situazione e questa è un po' l'idea della costruzione mediale della realtà esistono diverse teorie che utilizzano questo punto di vista cioè il fatto che i media sono importanti per costruire e condividere una realtà sociale coerente e condivisa con gli altri io in questo film ne ho identificate alcune la prima sicuramente è la teoria dell'agenda setting per chi non lo conoscesse la teoria dell'agenda setting è quella teoria sulla stampa quindi sull'informazione che dice che la stampa definisce dei temi che potrebbero essere importanti in un certo periodo e le persone nell'opinione pubblica costruisce su questi temi sia il proprio interesse quindi scegliendo fra i temi che la stampa racconta i temi che ritengono essere più importanti ma soprattutto i temi che servono nella propria vita quotidiana quindi si parla appunto di salienza cioè quali sono i temi che hanno salienza e importanza per l'opinione pubblica all'interno di tutti i temi che vengono escritti che vengono raccontati che vengono rappresentati dalla stampa allora perché quali sono gli elementi di agenda setting secondo me il diciamo così il primo elemento è l'elemento della televisione che smette di funzionare e qui c'è una vittoria diciamo così dei mass media rispetto ai social media quando la televisione smette di funzionare cosa succede? succede che per esempio la ragazza la la giovane Ruth Sanford che avrebbe voluto vedere la sua l'ultima puntata della sua serie preferita che abbiamo scoperto essere Friends in realtà è l'unica che comincia proprio nella riuscita a vedere la propria serie televisiva la sua realtà si comincia ad inclinare da quel punto che è una cosa interessante la cosa curiosa è che sembrerebbe che Netflix non si sia molto arrabbiata con Sam & Smile da questo punto di vista proprio perché Netflix è il canale streaming su cui la protagonista del film Ruth ovviamente vedeva la sua serie preferita Friends perché per chi non lo sapesse Friends sta su Netflix quindi era questo l'elemento poi la televisione non solo smette di funzionare ma comincia a mandare anche messaggi ansiogini c'è una specie di blue screen che dice questo non è un'esercitazione non ci sono informazioni e poi quando appare le cose che appaiono sembrano essere racconti di un attacco hacker quindi si parla di una degli Stati Uniti si vede una mappa degli Stati Uniti che è stata sottoposta ad un attacco hacker quindi c'è questa dimensione ansiogia della televisione e quelle poche notifiche che appaiono sul cellulare che appaiono per poco tempo e poi scompaiono sul cellulare di Amanda dicono appunto che c'è stato un attacco hacker che ci sono stati dei problemi di blackout e soprattutto quindi c'è notizia che continuano a creare assieme alla televisione una situazione di ansia di tensione sociale ma soprattutto i media non fanno altro che incrinare la rappresentazione condivisa della realtà sociale quindi sta succedendo qualcosa è qualcosa di importante qualcosa di catastrofico ma non si capisce bene cosa sia questo qualcosa un'altra teoria interessante che possiamo utilizzare per come costruzione mediale della realtà quindi un'altra delle teorie che fa parte della costruzione mediale della realtà sono le teorie del consumerismo queste teorie esistono diverse teorie sul consumerismo però il consumerismo è quell'impostazione sociologica che ritiene che i consumi quindi i servizi che fruiamo i beni che acquistiamo e anche i consumi in senso generale i consumi culturali sono gli strumenti attraverso i quali noi costruiamo attribuiamo senso alla realtà circostrante e costruiamo anche la nostra identità sociale all'interno di un contesto più ampio esistono diverse teorie ma io diciamo che si metto sotto il cappello di consumerismo tra l'altro non sono esperto di queste teorie quindi i colleghi che mi stanno a ascoltare e che sono più esperti più versati di me in questa serie di teorie spero che non me ne vogliano è semplicemente una versione molto edulcorata di quelle che in realtà le teorie sul consumo attivo e sul consumo delle società contemporanea prendono in considerazione a me inseriva giusto un riferimento generale per esempio sul consumerismo ci sono delle cose interessanti per esempio la casa è stata affittata in maniera assolutamente digitale quindi in una forma impersonale e in cui è anonima in cui fondamentalmente da cui nasce appunto la nella mancata interpretazione diciamo così coerente da parte di JH quando si trova a bussare alla porta che ovviamente Amanda non avendo mai parlato con lui dove avendo interagito sul posto elettronica non sa chi sia non sa se è proprio il padrone di casa e tutta questa situazione quindi si vede che fondamentalmente le app per mettere insieme chi offre la possibilità di affittare una casa per brevi periodi di tempo e chi è disposto ad accettare questo servizio ovviamente hanno non fanno fatto atto che far abdicare a quel meccanismo che nel commercio si chiama fiducia quindi sono le app che creano un legame fra persone che quindi diventano lo strumento che garantisce la fiducia fra chi offre un servizio e chi acquista un servizio quindi questa la dice lunga soprattutto su quanto sono penetrate nella vita nel tessuto sociale anche app come il riferimento non viene mai citato non viene mai citata l'app ma potremmo pensare che sia un'app tipo airbnb ecco essendo una casa privata che viene affittata da un altro privato poi in realtà c'è un'altra situazione che dal punto di vista del consumerismo secondo me è molto interessante quella è la della questione legata al fatto che comportamenti di consumo assolutamente normali e acquisti assolutamente legittimi però in questo contesto di realtà sociale e realtà condivisa incrinata diventano assolutamente inquietanti tipo Danny ovvero il personaggio interpretato da Kevin Bacon che in una scena si vede che compra grandissime quantità di acqua e di cibo in scatola quindi cosa vorrà dire questa cosa potrebbe essere semplicemente uno che faceva delle scorte ma ovviamente in questo contesto può essere qualcuno che sa qualcosa di più e quindi assumono interpretazioni completamente diverse oppure un'altra cosa curiosa per esempio Archie che è appunto il figlio adolescente della famiglia della famiglia Sanford ha una maglietta Obey con il classico logo di Obey che ovviamente è una maglietta che ha una sua caratteristica culturale è una maglietta diciamo così molto famosa per chi si occupa di icone culturali contemporanee ma in quel tipo di contesto in quel tipo di situazione di realtà sociale inclinata assume una connotazione assolutamente strana assolutamente inquietante quindi una situazione inquietante una maglietta che gioca con appunto con delle icone culturali diciamo così di instabilità culturale ovviamente in questa situazione è un fatto che aumentare quella che è il timore di che sia successo qualcosa di terrificante poi c'è un'altra teoria sempre nell'ambito delle teorie che hanno a che fare con la costruzione mediale delle realtà è che l'approccio usi gratificazioni allora l'approccio usi gratificazioni non è in sé una teoria è più un approccio c'è un modo di studiare i media secondo la classica slogan studiare non cosa i media fanno alle persone ma cosa le persone fanno con i media questa è una teoria classicissima degli studi sulla comunicazione e che io ho intravisto in alcuni diciamo così in alcuni momenti secondo me piuttosto interessanti perché sono quelli di comunicazione tipo quando Clay parlando con Amanda racconta della sua studentessa che gli ha chiesto di scrivere la prefazione al suo secondo libro in questo libro parla dei media che sono contemporaneamente strumenti di evasione e mezzi di riflessione e che Clay osserva che è una contraddizione che le comunque riesce a conciliare oppure Rose altro approccio uso e gratificazioni Rose che usa la ragazza appassionata di serie televisive che usa Friends per essere felice quindi non è semplicemente un consumo culturale non è semplicemente intrattenimento è proprio una questione di emotiva profonda e quindi questo fa capire che in alcuni contesti l'intrattenimento diventa come era il loto per i lotofagi dell'odissea per chi di voi lo ricorda i lotofagi erano colori i quali mangiavano il loto soprattutto per dimenticare per perdersi nell'oblio Ruth rivela che Rose chiedo scusa la ragazza la giovane appassionata di serie televisive della famiglia Sandford fondamentalmente usa Friends soprattutto per essere felice quindi è uno dei motivi per cui la porta a cercare in tutti i modi il modo per scoprire qual è l'esito dell'ultima puntata della serie televisiva poi c'è un'altra poi Rose sempre Rose in un quadro interpretativo che io associo all'approccio uso e gratificazioni Rose fa riferimento alla serie West Wing e lei precisa solo le puntate solo gli episodi scritti da Aaron Sorkin per chi non lo conoscenze Aaron Sorkin è uno dei più importanti uno dei più famosi uno dei più bravi diciamo di sceneggiatori hollywoodiani per intenderci The Social Network la storia del Facebook il regista di David Fincher è una sceneggiatura di Aaron Sorkin questo oppure West Wing oppure The Newsroom ce ne sono tantissime Sorkin è uno molto 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 bravo è uno scrittore assolutamente di livello e la cosa interessante è che Rose usa una parabola che ha sentito dentro West Wing come strumento per interpretare cosa stia succedendo il che fa capire che l'approccio uso e gratificazioni possiamo dire che quindi usiamo i media non solo per l'intrattenimento Friends per Rose ma anche come strumento per capire cosa ci sta intorno quindi come strumento di accesso alle informazioni sempre rimanendo l'ultimo tassello su cui volevo diciamo così riflettere con voi da punti sociologico è il ruolo dei mercati finanziari allora J.H. è un consulente finanziario è una cosa che resta sullo sfondo ma ci sono due momenti in cui lui dice che aveva immaginato che qualcosa di terribile stesse per succedere perché i mercati li avevano diciamo così guardando i mercati aveva visto dei movimenti che lo avevano messo sull'allarme allora chiariamo questo punto che rapporto c'è fra mercati finanziari e previsione sociale nel film questo meccanismo non è chiarito non so se nel libro ci sia qualche passaggio ulteriore anzi se qualcuno ha letto il libro me lo faccio sapere che è una cosa che mi interessa sia dal punto di vista di curiosità culturale e personale ma soprattutto per gli studi che faccio perché questo è un elemento che mi piace molto perché c'è un legame fra mercati finanziari e previsioni sociali perché il funzionamento dei mercati finanziari è stato usato come strumento per prevedere i comportamenti sociali questi studi si chiamano mercati predittivi sono usati più che altro in ambito politologico quindi per prevedere fenomeni politici ma non solo e sono stati studiati da quella branca dell'economia che si chiama economia comportamentale per intenderci quella branca dell'economia che ha introdotto processi legati alla psicologia cognitiva per chi di voi conosce il genere sono i studi fatti da Amos Fersky e Daniel Kahneman Kahneman ha fatto un libro molto famoso che si chiama pensieri lenti e pensieri veloci dove lui diciamo così da padre di questo nuovo modo di fare economia che si chiama economia cognitiva o economia comportamentale fa ampere riflessioni più che altro sulle nostre caratteristiche decisionali per intenderci Kahneman è quello che ha sdoganato il concetto di bias di distorsione nelle decisioni non entro in questo dettaglio sempre solito giochetto se volete saperne qualcosa di più di queste cose scrivetelo nei commenti perché conoscere come prevedono i comportamenti i mercati preditti può essere molto molto curioso e molto interessante allora quali sono gli elementi che secondo me mi hanno portato a riflettere sulla predittività dei mercati allora sicuramente la parte 2 per chi ha visto il film sa che il film è diviso in capitoli e ogni capitolo viene rappresentato appunto con un passaggio nel secondo capitolo la seconda parte si chiama La Curva che sembra una cosa mistica in realtà La Curva Scott appunto J.H. il nostro consulente finanziario dice che aveva capito che qualcosa di strano stava succedendo perché osservando il mercato lui aveva visto bisognava saper leggere La Curva cioè osservando il mercato vedere come si comportavano le azioni e lui dice che se la curva è stabile vuol dire che siamo in un periodo stabile se la curva si impenna o ha un picco in cui si impenna o diminuisce c'è qualcosa che sta accadendo e la curva e lui per essere abili nel suo settore bisogna saper leggere la curva perché la curva definisce lui dice gli schemi che governano il mondo e questa a me diciamo così mi ha affascinato molto come come punto di vista cioè utilizzare l'andamento dei mercati finanziari per capire cosa sta succedendo nel mondo che in realtà non è fantascienza è una esistono diciamo così diversi studi diverse analisi che usano appunto come dicevo i mercati finanziari come strumento per prevedere i comportamenti si chiamano mercati predittivi appunto ripeto se volete saperne di più scrivetemi nei commenti e poi c'è anche un secondo passaggio quando si trovano diciamo così a chiarirsi quasi in una intimità amichevole sia Scott che lo scuso sia J.H. Scott che Amanda J.H. rivela che il motivo reale che lo ha portato quando c'è stato il blackout nella città a non rifugiarsi a casa ma andare nella sua casa in riva al mare dove c'era appunto che stava ospitando in quel momento la famiglia Sanford era dovuto al fatto che un suo amico che lui che si era autodefinito e che lui scorzatamente chiamava appartenente alla congrega malvagia che governa il mondo aveva deciso qualche tempo poco tempo prima di spostare enormi e ingenti quantità di denaro persino per una persona molto ricca e molto influente come questo suo amico di cui lui non dice il nome ma ha dato tutti gli elementi per poterlo interpretare forse forse il riferimento lo capiscono bene gli americani ma io devo essere sincero non ho capito se stesse facendo riferimento che ne so Elon Musk non lo sappiamo e la cosa che l'ha fatto inquietare è che quando lui sposta questo nome quanto a denaro non solo non ci ha voluto ridere ma dice abbi cura di te quindi questo vuol dire che qualcosa sarebbe successo quindi nessuno detiene il controllo ecco questa è un po' la sintesi di questo tipo di ragionamento questi secondo me sono gli elementi che rendono sociologicamente interessante questo film questo film quindi è interessante perché allora sicuramente lo sfondo è particolare quindi sono le guerre questo è un mondo di guerre ibride metà fatte con strumenti convenzionali esplosioni e metà fatte con strumenti non convenzionali come gli attacchi hacker o l'utilizzo dei droni dei droni che bombardano tramite fake news tramite notizie false eccetera eccetera poi c'è la parte sulla realtà come costruzione sociale che me l'ha resa molto mi ha molto affascinato questo punto cioè il fatto che la realtà può essere inclinata se le interpretazioni che noi diamo della realtà insieme agli altri non vengono a essere condivise ecco quindi questo secondo me è un aspetto che lo rende ancora più ansiogeno come monta la dimensione del film poi c'è la realtà come costruzione mediale cioè i media hanno un ruolo importantissimo i media servono per cercare per cercare per trovare l'affitto i media servono per capire cosa sta succedendo la televisione in questo caso vince su tutti i media servono per capire che c'è un attacco hacker i media servono per capire per cercare di essere felici i media servono per fare tutto quindi c'è questa componente in cui la centralità dei media diventa potentissima e che quindi fa capire quanto noi dipendiamo dai media fondamentalmente ma dai media digitali in particolare se mesma il ricordo che è il deuses macchina del progetto mister robot che della nostra dipendenza tecnologica ne faceva un elemento strutturante e poi ovviamente c'è questa componente che secondo me hanno colto solo gli appassionati di mercati finanziari o di chi come me si occupa di tecniche non convenzionali di ricerca sociale come sono i mercati predittivi quindi l'utilizzo della finanza come strumento che aggrega delle decisioni e che quindi variazioni nei mercati possono dare indicazioni su come sta andando il mondo ecco questo è un po' il meccanismo adesso arriviamo a una parte molto personale molto mia diciamo c'è la recensione ripeto è una recensione come tutta recensione è arbitraria nel mio caso è molto più arbitraria perché non sono un esperto di cinema io vedo il cinema fondamentalmente con gli occhi del sociologo perché mi piace trovare delle scene delle sequenze che poi magari posso usare le lezioni per raccontare in maniera accattivante delle cose molto tecniche che legate alla scienza sociale o comunque non di immediata comprensione che magari con un clip cinematografico possono essere d'aiuto di notevole aiuto allora vediamo questo film mi è piaciuto mi è piaciuto dunque mi è piaciuto nei temi non sono convinto del finale anche se il finale comunque era giusto che finisse così gioco a carte scoperte è che a me i finali di quel tipo non piacciono allora prima di tutto il film si nutre pesantemente di quello che è l'immaginario distopico fantapolitico perché tutto il film è costruito con un senso di attesa minacciosa inspiegabile e il finale è aperto il finale non finale fondamentalmente non fa altro che rinforzare questa connotazione come io da appassionato di cima posso dire che ci ho visto e non sono l'unico perché ho letto anche cose in giro in questo senso ci ho visto la costruzione della tensione sicuramente alla Hitchcock cioè qualcosa che sta accadendo dobbiamo ricostruirla ma c'è anche la percezione sospesa del tempo e dello spazio che possiamo trovare nei film di Night Shyamalan quello che mi è venuto in mente è alla fine venne il giorno in cui si vede fondamentalmente la natura si ribella all'uomo e lo intossia con delle tossine non so se ricordate se ricordate il film con se non ricordo male con Mark Wahlberg non vorrei dire una cosa sbagliata soprattutto non ricordo meglio non voglio avere sbagliato il nome dell'attore però Sam Esmail in una sua intervista dice che in un'intervista dice che lui è stato molto colpito da Sine e Sine era l'invasione aliena fatta appunto per sottrazione non per con attacchi stratosferici più che altro fatta con con in modo piuttosto diciamo così per understatement nel film di di Shyamalan e quindi questo sicuramente è un riferimento un altro riferimento secondo me sono alcuni film che descrivono una realtà alternativa in un'ottica complottista quello che mi è venuto in mente in assoluto è uno dei miei film preferiti di tutti i tempi che essi vivono di John Carpenter se non avete mai visto quel film vedetelo perché secondo me è la migliore rappresentazione cinematografica americana della squadra di Francoforte è una cosa che ci ho visto io e che poi ho scoperto e sa anche l'interpretazione di Slavojicek quindi per chi mi sono trovato per la prima volta in vita mia d'accordo con Gicek perché di solito non lo diciamo così per chi conosce questo tipo di filosofo pensatore sociale è piuttosto particolare come tipo di personaggio ma c'è anche un altro film che a me mi colpì alla fine degli anni 90 che era Dark City di Alex Proyas che raccontava di un gruppo di alieni che riuscivano a modificare la realtà fisica e quindi soprattutto nei momenti in cui le persone dormivano quindi durante i sogni è un film di Alex Proyas per intenderci il regista del Corvo quello con Brandon Lee quindi è un film anche esteticamente piuttosto particolare e poi ovviamente fra tutti i film complottisti in assoluto in cui in realtà non è quella che sembriamo ma è una costruzione condivisa e simulata Matrix delle allora fratelli adesso le sorelle Lana e Lily Wachowski quindi questo è l'immaginato riferimento di questo film che permette di collocarlo il film di cosa parla? dunque il film parla sicuramente c'è un tema dominante se sono i media e i media digitali in particolare a costruire questo mondo questo film fondamentalmente è un film sulla dipendenza tecnologica cioè non c'è altro modo per dirlo e per rappresentarla questa cosa la tecnologia nel film ha un ruolo importante sia per fare le cose appunto affittare le case sia per connettersi con la realtà conoscere la realtà quindi usare friends per non solo per intrattenersi ma per essere felici usare West Wing per comprendere cosa sta succedendo e la società è diventata dipendente allora dal mio punto di vista questo della dipendenza tecnologica è un problema che riguarda tutte le società contemporanee tutte ma nel caso degli USA non è solamente una dipendenza dal sistema sociale ma anche dal punto di vista interazionale quindi non dal punto di vista la dipendenza tecnologica dal punto di vista macro ma anche dal punto di vista micro c'è lo stesso legame che c'è fra le persone quindi là i media non servono solo per far funzionare la società come nel caso dell'e-commerce come nel caso delle auto elettriche c'è una bella scena per esempio in cui le Tesla impazziscono la trovate online fra i vari video che ha diffuso Netflix ma se vedete il film merita dal mio punto di vista soprattutto perché ha un atteggiamento criptoluddista e su questo non insisto ma le tecnologie servono anche nella società americana per mettere in contatto con le persone ecco questo è secondo me è l'aspetto che mi rende questo film meno digeribile perché ho fatto un esperimento mentale permettetemi cioè questo film avrebbe avuto lo senso se fosse stato ambientato a Roma o a Catania o a Catanzaro giusto per dire le tre città in cui ho vissuto e abitato per esempio una situazione in cui ci sono delle auto che impazziscono oppure vicini armati fino ai denti che non ti vogliono aiutare che spero sono preparati alla fine del mondo i mezzi di trasporto che collassano magari potrebbe succedere in Italia appunto che in una situazione di questo tipo collassano gli aerei e collassano le navi i traghetti ma immaginate la situazione dei treni in Italia i treni collassano senza bisogno che attacchi Hager quindi secondo me la questione è il film crea una situazione di tensione di plausibilità se collocati in un contesto internazionale e americano in particolare se noi dovessimo adattare la realtà italiana secondo me sarebbe molto più difficile ad adattare perché noi siamo sicuramente dipendenti dalla tecnologia come tutte le società avanzate contemporanea però ancora secondo me la tecnologia non è entrata a sostituire i rapporti interpersonali cioè secondo me ancora i rapporti interpersonali non sono stati sostituiti dalla tecnologia ma sono stati rinforzati dalla tecnologia quindi se viene meno la tecnologia cominciamo ad andare dai vicini di casa per chiedere cosa è successo e sicuramente non troviamo immagino un vicino di casa armato fine identica e ti dice no non ti aiuto perché mi devo preparare per un motivo fantapolitico è vero che durante la pandemia l'abbiamo vista di ogni però non lo so su questa cosa mi ha fatto riflettere e questa cosa mi ha fatto riflettere anche in prospettiva il film è un film distopico come la vedo io il film è un film distopico e fantapolitico che però non racconta la fine del mondo in sé ma secondo me racconta la fine dell'America cioè del mondo americano o meglio dell'America per come l'abbiamo conosciuta fino adesso e forse potremmo dire per estensione la fine del mondo occidentale impostato secondo i cani americani quindi per come l'ho visto io non è tanto un film sulla fine del mondo ma è sulla fine del mondo americano che è una cosa secondo me piuttosto diversa e piuttosto specifica paradossalmente ci stavo pensando Don't Look Up di Adam McKay di Adam McKay chiaro scusa che raccontava le reazioni della politica e dei media all'arrivo di una cometa mi sembrava invece molto più globale archetipico quindi molto più che potrebbe interessare anche una situazione come Roma Catania e Catanzaro di quanto invece sta accadendo nel film raccontato da Sam Ismail il mondo dietro di te con attacchi hacker droni che bombardano con fake news eccetera 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 il film mi è piaciuto? allora sì mi è piaciuto per i temi che solleva mi è piaciuto per il trattamento mi è anche piaciuto paradossalmente perché io non sono appassionato di questa tipologia di rappresentazione per le atmosfere rarefatte però devo dire la verità non mi ha convinto completamente lo rivedrei perché voglio vedere alcuni dettagli però alcune cose non mi hanno convinto per esempio il ruolo circostanziale degli animali dei cervi anche se c'è una scena per esempio in cui si vede che la spiaggia proprio all'inizio del film è piena di tracce di plastica quindi fondamentalmente fa capire che l'ambiente ha un ruolo però durante il film in questi attacchi l'ambiente ha solo un ruolo di aumentare l'angoscia quindi solamente arredamento se mi permettete la battuta i cervi stanno lì per fare per creare ansia i fenicotteri che cadono che diciamo così che si riposano dentro la piscina servono lì servono lì per fondamentalmente creare una situazione di instabilità che ci fanno dei fenicotteri dentro una piscina cioè non hanno un ruolo un ruolo reale per esempio gli animali però nel complesso i temi sociologici ci sono tutti quelli che ho raccontato secondo me quelli sono piuttosto interessanti c'è il tema sui media e c'è un tema che secondo me vale la pena di essere di essere di essere su cui vale la pena rifletterci questo è quanto questo è quanto allora più di tutto vi ringrazio per essere stati ad ascoltarmi fino a questo momento ho parlato poco o meno di un'ora perché c'avevo delle cose da dire perché secondo me valeva la pena che fosse un pochettino sviscerato voglio sapere il vostro punto di vista cioè se conoscete le teorie sociologiche a cui ho fatto riferimento cosa ne pensate ha senso la mia interpretazione sociologica non ha senso è forzata mi farebbe piacere parlarne perché ovviamente non ho certezze in questo senso conosco le teorie sociologiche ma ovviamente come tutti ho dei dubbi se effettivamente si adattano a descrivere perfettamente alcuni passaggi e i passaggi che ho descritto quindi questo è sicuramente un atto di onestà intellettuale che mi corre l'obbligo e soprattutto il piacere di fare quindi ditemi cosa ne pensate nei commenti vediamo se diciamo così vi ho incuriosito per quelli che hanno visto per quelli che non hanno visto il film o se invece vi ho convinto per quelli lo hanno visto e magari lo hanno visto con un proprio punto di vista con una propria posizione vi ringrazio della vostra attenzione seguitemi nei miei spazi social perché poi alla fine di questo parlo cerco di mettere insieme immaginario e sociologia alcune volte lo faccio con i meme altre volte lo faccio con i film con le lunghe sproloqui davanti davanti la fotocamera ecco questo questo è quanto un saluto a tutti e grazie per la vostra attenzione non dimenticatevi fatemi fare proprio lo youtuber non dimenticatevi di seguirmi nel mio canale e se vi è piaciuto il video di mettere un like e di condividerlo se non vi è piaciuto no perché mi sembra corretto da questo punto di vista e soprattutto commentate che è la cosa a cui tengo di più un saluto